seguitemi oggi vi porto a visitare l'ultima villetta rimasta in Durate Cacivio Villa Bifamiliare eccoci arrivati qui vedete la planimetria generale dell'area un render del complesso e adesso andremo a visitare la villetta buongiorno ci troviamo in Durate Cacivio dove è rimasta disponibile in questo contesto di nuova costruzione l'ultima villa bifamiliare in classe A4 disposta su due livelli al piano terreno abbiamo la zona giorno mentre al piano primo abbiamo la zona notte come potete vedere dalle piantine la zona giorno è caratterizzata da cucina con soggiorno bagno e lavanderia mentre nella zona notte abbiamo una camera bagno due locali accessori oltre a terrazzo e balcone case in classe A4 quindi basso consumo energetico c'è ancora la possibilità di scelta delle finiture interne per maggiori informazioni contattatemi al 331 77 36 797 geometra marchese